Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì numero 22, Giovanni, con il numero 13, Amir, con il numero 3, Kim, con il numero 6, Mario, con il numero 99, Frank Zambo, con il numero 60, Fostani Siamo, numero 20, Pietro, con il numero 21, Matteo, con il numero 9, Vittorio, con il numero 77, Dizio, a disposizione. Il numero 8, Mister Lugiano, con il numero 12, Davide Barpello, con il numero 30, Sabato e Sinibu, numero 4, Diego, Terme, numero 5, Juan, Gesuso, numero 7, Enrico, Hermas, numero 11, Irving, Lozano, numero 17, Mattia, Salimera, numero 18, Giovanni, Simeone, numero 19, per la prima volta, Ime, Maglia Azzurra, allo Stagno, Maradona, Martos, Peresischi, numero 23, Alessio, Zerberin, 31, Karina, Zanacca, 55, Leo, Fostigard, 70, Gianluca, Gagnano, 81, Jack, Raspanori, e con il numero 91, Degli, Domboli.